Storytime, evoluzione radio Io, Stefan, ti ringrazio per aver accettato il nostro invito e ti do il benvenuto in sessione radiofonica Grazie a voi Allora, Stefan, raccontami un po' della tua attività Che cosa si intende effettivamente per creator video e di conseguenza qual è anche un po' il tuo percorso in questo settore? Beh, diciamo che molta pubblicità per quanto riguarda i canali, soprattutto Instagram e YouTube È sempre stata la mia passione sia fare creator video che andare in moto E diciamo, sono riuscito a coniugare le due cose attraverso i social Purtroppo non ho potuto intraprendere una carriera di studio per motivi familiari Ma attraverso, diciamo, tutorial oppure essendo autodidatta Sono riuscito a imparare abbastanza bene, diciamo, il videomaker e la fotografia E l'ho riportata sui social Ognuno ha la sua strada, non per forza bisogna studiare Ecco, Stefan, come ti sei reinventato in questo settore? Leggevamo anche prima dalla tua scheda e a microfoni spenti Parlavamo comunque di creator video per le moto in particolare Esatto, esatto Sì, diciamo, mi diletto a fare dei reel per quanto riguarda Instagram Soprattutto YouTube qualche, diciamo, sponsorizzazione su qualche prodotto Oppure su qualche viaggio praticamente Soprattutto su Instagram che, diciamo, è l'attività principale Il social principale cui lavoro Ho il piacere di aver avuto la possibilità di collaborare con due aziende Ecco, Stefano, quando si parla di moto in particolare Mi viene comunque in mente di immaginare, per esempio, un video in particolare Un percorso, comunque anche, sai, le famose pubblicità delle motociclette Come si imposta un video per le moto in particolare? Allora, diciamo che sono tutto praticamente da solo Quindi non è che posso farmi una ripresa mentre vado io in moto Però, diciamo, la maggior parte dei video sono in prima persona Oppure attraverso un cavalletto mi riprendo verso quella moto L'attività principale è cercare di fare reel molto simpatici Molto scherzosi, pubblicizzando il prodotto Praticamente l'obiettivo è questo Funge anche un po', per esempio, come vedi Tu dicevi, ti inquadri in prima persona, no? Esatto Tu stesso mentre guidi? Esatto, sì, attraverso Come se avessi la GoPro o hai la GoPro? La GoPro è anche un'altra macchina fotografica Che è una Insta 360 Che riprende a 360 gradi Quindi posso decidere dopo quale inquadratura In post-produzione quale inquadratura scegliere Ed è veramente molto meno pericolosa della GoPro Perché comunque la metti lì, registri e poi dopo scegli Assolutamente E mi parlavi, Stefano, poc'anzi Anche ovviamente dell'aspetto riguardante la sponsorizzazione delle aziende Quello che può essere un prodotto, un marchio in particolare Vuoi parlarci di questo aspetto? Esatto Come prima sponsorizzazione io sto collaborando con questa azienda Che si chiama Ride by Wire School Praticamente è una specie di mappatura per le Harley Davidson Perché le Harley Davidson fino ad ora non aveva una mappatura delle mappe sulle moto Questo dispositivo ci consente di avere praticamente 5 moto in una Come hai in macchina praticamente C'è la modalità spioggia, la modalità sport Più le mappe intermedie E già da un anno abbondante sto collaborando con loro Ed è abbiamo trovato una buona collaborazione Anche stasera con lui mi incontrerò per altri progetti Ecco parlando di altri progetti Stefano stai lavorando a qualcosa di particolare Sì attualmente ma anche come diciamo Prerogativa per il futuro Imminente e più lontano che sarà Cosa ti piacerebbe realizzare in particolare? Ma allora mi sto interfacciando anche con altri youtuber un po' più famosi di me Per avere le collaborazioni E andremo soprattutto qui in zona Milano In The Garage abbastanza famosi Dove customizzano moto oppure si parla di verniciatura delle moto In modo da pubblicizzare queste attività molto artigianali Nel mondo soprattutto degli aree di Edison Allora Stefano a questo punto ne approfittiamo per citare anche i tuoi dati e i tuoi contatti di riferimento Dove possiamo trovarti? In particolare teste di moto è il tuo slogan Sì è un nome un po' strano ma deriva dal fatto che prima eravamo in 5 Tutte e 4 pelati e uno con la testa grossa E quindi il nome arriverà a quello Comunque su Instagram è teste di moto sia su Facebook che anche YouTube Quindi mi dicevi Stefano che tipologia di contenuti pubblichi sia su Instagram Che a questo punto anche immagino Instagram un po' più di tendenza Così come YouTube rispetto a Facebook Sì Facebook diciamo è il riflesso di Instagram Pubblico qualcosa su Instagram e direttamente va su Facebook Però diciamo il profilo principale, il social principale è Instagram Proprio perché dicevo facciamo questi piccoli reel di 15-30 secondi E YouTube per qualche tutorial particolare sul montaggio accessorio moto O abbigliamento queste cose qua O qualche viaggio Assolutamente Stefano Vuoi lasciare un saluto, un messaggio, un invito come conclusione della nostra piacevole intervista? Esatto, intanto saluto voi e ringrazio di questa bellissima opportunità E ringrazio anche tutti i miei amici di L'Orae del Rest Italia E il mio sponsor principale Savva HD Rai by Wari School Stefano grazie ancora per essere stato con noi e alla prossima Grazie a voi Amici di Storytime Restate in nostra compagnia per le prossime interviste Storytime Evoluzione Radio Grazie a tutti i miei amici di L'Orae del Rest Italia Grazie a tutti i miei amici di L'Orae del Rest Italia Grazie a tutti i miei amici di L'Orae del Rest Italia Grazie a tutti i miei amici di L'Orae del Guardian